cari amici randaggi non fatevi sedurre dalle tentazioni di questo mondo perché nulla è definitivo nulla è stabile non fatevi sedurre dalle promesse di una falsa stabilità perché i lavori cambiano gli amori se ne vanno alla fine di tutto cosa resta? voi stessi cercate l'amore dentro voi stessi cercate la pace dentro voi stessi perché se non trovate l'amore e la pace dentro voi stessi non sarà il mondo esterno a regalarvela il mondo esterno è transitorio tutto ciò che vi attorna è transitorio cosa resta di stabile e definitivo e di realmente stabile e realmente definitivo voi quello che avete dentro i vostri sogni i vostri desideri su quello investite su quello puntate in quello cercate abbracciate senza paura l'ignoto perché l'ignoto è bellezza e la vostra anima di questo senuto chiede chiede Grazie a tutti.